Matteo, ti giro l'SMS che ci è appena arrivato, firmato da Cuore Bianco Blu 88, che ci chiede, dice, almeno afferma, che Markoski avrebbe litigato con tutti e ci chiede, insomma, questo è un po' ovviamente come provocazione, se ti chiede se Markoski ti dia qualche soldo per difenderlo. Io so che ovviamente tu frequenti molto spesso gli allenamenti o comunque la Conant, insomma, non c'è bisogno di rispondere ovviamente alla provocazione, ma semplicemente per spiegare un attimo il rapporto di Markoski con il resto della squadra, con la società. Io lo vedo molto tranquillo, cioè lui è una persona molto professionale, uno che è molto dedito al lavoro, cioè parlando sempre di risultati, ho visto che si parlava anche della sua non esaltante annata dell'anno scorso a Limoges, però un'annata negativa può capitare a tutti, cioè per lui parlano i risultati, non devo fargli apologia io, quindi non rispondo. Basti.